Dunque, oggi il video che dovevo pubblicare è andato distrutto, non si sa perché, alle 6 doveva esserci in programmazione questo video, ma è sparito, e quindi vi faccio un video così, buttato lì, ma comunque non di secondaria importanza, dovete meditare su quello che andrò a dirvi. Allora, un discorso che avevo già quasi accennato, no, anzi avevo già accennato, ma forse non ho approfondito, forse non è stato capito, perché ancora molto spesso, vedo che i ragazzi sulla ricerca in materiale hanno idee confuse, dunque, quello che state vedendo è il mio mugo che ho usato due domeniche fa per fare la demo per l'evento live Black Chissor, eccolo qua, una vegetazione così, già abbastanza pronta, quasi compatta, ha un tronco molto ben mosso, purtroppo il sole oggi non ci aiuta, ma è un video improvvisato, comunque un bel andamento. Ecco, se pensiamo che era una pianta con pochi rami, spogli e un tronco, questa parte era già bella mossa, questa a scendere, ma il primo tratto dritto ed è stato piegato sul momento, pensiamo quanto lavoro c'è dietro per produrre un materiale. esempio come questi, ce ne sono così, vedete ad esempio, guardate questo belabete, spostiamo questo barattolino, questo è un barattolino, vedete questo belabete, come anche questo da un materiale che poteva inizialmente essere banale perché è il classico tronco che va e poi è stata fatta una contropiega sopra, non è mio, anzi in vendita a chi fosse interessato e da un tronco inizialmente banale è uscito un qualche cosa di veramente molto molto interessante, lavorato anche da Antonio Amodei e da Enrico Savini. Allora, il mio discorso è questo, molto spesso i ragazzi mi contattano per avere un materiale, io magari un materiale di qualità che posso proporre ad esempio questo, questo materiale molto bello, vedete ha delle stupende caratteristiche, gira molto, si può così, tante forme e tanti volti e però non sempre i ragazzi sono così, sono propensi a partire da materiali di questo tipo, molto spesso la gente vuole un materiale pronto per fare uno step e arrivare al risultato, come così mi dicono ad esempio quel tuo mugo che hai fatto domenica, quel bel mugo, attenzione che quel bel mugo 7-8 anni fa non era quel bel mugo di adesso, era un materiale grezzo, allora quello che dico io, non è tanto il discorso prendete i materiali e portateli avanti perché è poi scontato, uno deve partire dal grezzo e coltivarlo poco alla volta per arrivare ad avere un materiale qualità, ma più che altro non fatevi sporcare le idee da un internet che vi fornisce delle informazioni troppo veloci, cioè per arrivare da un materiale grezzo ad avere un bonsai ci sono degli step, il materiale va preparato, va ricoltivato, io prendo le piante che ho acquistato, qualche pianta, qualche silvestra qualche tempo fa e ancora ce l'ho qua, tipo due anni fa, ce l'ho ancora qua per conoscere la pianta, per farlo gemmare, per arricchire i palchi, perché ci va del tempo? Quello che vedete in internet è vedere, prendere una pianta magari già preparata da anni, fare una step e metterla giù, magari anche in facebook, i primi e dopo, allora attenzione per chi inizia e non ha le idee chiare, non fate questo errore, per fare il bonsai ci vuole una tempistica, con le tecniche moderne le tempistiche si sono accorciate, però non fatevi fare fessi perché comunque ci va del tempo, io non raccolgo la pianta oggi e faccio lo styling domani, attenzione, siamo in un'era in cui i media vanno molto veloce, ma ricordiamoci che abbiamo a che fare con le piante che hanno il loro ritmo, quindi rispettiamole e se vogliamo crescere bonsaisticamente dobbiamo rispettare loro per rispettare quella nostra crescita bonsaistica, partiamo, facciamo un viaggio insieme e cresciamo di pari passo, noi e le piante si intende, un saluto